Buonasera, le anticipazioni e le notizie dello 0766 TG Web. Cominciamo con il Consiglio Comunale che c'è stato quest'oggi e che ha visto l'ennesima pagare in Consiglio con il Sindaco che a metà seduta, per altri impegni se n'è andato, ma che è stato attaccato da minoranze e soprattutto dall'Onorevole Tidei. Sempre con Tidei, l'assenteismo per l'assestamento di bilancio, Tidei denuncia in discarica più rifiuti del previsto e così via. E sempre sul tema politico, per quello che riguarda Tidei, continua a ribadire, Cozzolino dimettiti per il bene della città, lasciateci poter salvare la città, questo è il senso. Dall'altra parte Forza Italia, Cozzolino come sempre non risponde, questo lo dice il coordinatore di Forza Italia Roberto Dottaglio. Insomma un fuoco incrociato, ma il noccio della questione è che c'è stata questa proroga per quanto riguarda la SGR al 21 dicembre. Bisogna comunque trovare entro il 31 dicembre questi 3 milioni di euro, che poi dovrebbero diventare circa 5, perché poi in effetti nel bilancio per salvare il comune ne possono andare solo una percentuale e non il 100%. Staremo a vedere la situazione un pochettino a bolle in pentola, toni scherzosi anche da Marchese del Grillo in alcune situazioni, toni un po' più melenzi e soprattutto noiosi in alcune risposte sempre riguardando al passato da alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle. Giriamo pagina e diamo la notizia dell'ultima ora. Busa attenzione ai falsi ispettori Ips, perché sta girando una coppia di 600 ispettori in città, soprattutto nella zona intorno a Via Palmiro Togliatti, Via Montanucci e La Mediana, dove Busa cercando ovviamente in appartamenti mirati, occupati da anziani e chiedendo dei falsi documenti Ips e tesserini Ips, cerca di poi potersi intrufolare in casa. Quindi raccomandiamo a tutti i concittadini, soprattutto anziani, di non aprire il portone e di non aprire soprattutto la porta di casa, soprattutto se siete soli. A ogni movimento sospetto, avvisate le forze dell'ordine come è stato fatto anche in questa occasione. Vediamo le altre notizie, poi un grande festa in porto, è anche un buon convegno stamattina sulla nave maestrale, che è all'ultimo giro di Boa, da Civitavecchia andrà alla Spezia e poi va in disarmo, quindi ha definitivamente la bandiera di ordinanza, è stata festeggiata dai fucilieri della Marina, dai bambini anche del coro di Civitavecchia, è stata anche un'occasione per rinnovare l'impegno delle forze armate, anche in questo caso per Teleton. Ricordiamo che poi il 2 ci sarà la serata per Marcello Manzervigi con Max Petronilli, siamo all'undicesima edizione. Per quanto riguarda l'esenzione ai ticket, ci ricorda Alessio Gismondi, il presidente della CNA, area di Civitavecchia, che i ticket vanno solo ai disoccupati ma non agli inoccupati, questa esenzione. Mentre per quanto riguarda poi altre situazioni, prima di passare alla lunga pagina sportiva, D'Angelo e Grasso già per fine settimana hanno fatto un comunicato congiunto e hanno detto che Colsolino per Natale faccia un bel regalo alla città, si dimette, quindi torniamo sul solito discorso di prima. Poi la Guardia Costiera che ha sequestrato 8.000 ricci a Santa Marinella, che erano buoni da mangiare, ovviamente un po' troppi, che erano destinati al mercato pugliese. Poi la ASL Roma F, oggi ci è stata abbracciata dalla conferenza dei servizi sanitari della nostra zona, con alcune illustrazioni di quello che potrà poi arrivare le altre situazioni per la prevenzione e poi altre situazioni per quanto riguarda la sanità. Un atto partecipato da tutti i servizi sanitari della nostra ASL. Poi l'assessore Tuoro del Movimento 5 Stelle dice che si chiude un anno finanziario a dir poco complicato e giù sciorina una serie di cifre e di dati che sono al di poco mostruosi, però quindi è inutile che andiamo qui a leggere. Vi rimandiamo, per coloro che fossero interessati, a leggere il comunicato integrale sul sito www.0766news.it. Quindi veniamo poi allo sport, Civitavecchia, K.O. pesante in Sabina, un 3-1 che fa quindi regredire i nerazzurri in classifica. Servono quanto prima rinforzi per la prima squadra nel settore giovanile, ricordiamo tutti i risultati che troverete sul nostro sito ma anche sul giornale cartaceo a disposizione già da domani in tutti i punti di distribuzione, ma ricordiamo che è tornato nella categoria Elite anche il mister Andrea Rocchetti nel Civitavecchia. La CPC, al contrario dei nerazzurri civichesi, continua a vincere, ha vinto 2-0 al fattore, è abbattuta quindi l'Ara Nova e si conferma prima in classifica, pareggio a suo di rete tra Santa Marinella e Santa Severa. Nella CSL Soccer e San Pio X, una domenica bestiale, entrambi vanno K.O. in trasferta. Per quanto riguarda la situazione della palla a volo, Margutta Asp avanti tutta, mentre lei nell'Asp ha un K.O. pesante nella B2 maschile contro il Tor Sapienza nel basket. Giornata nera per le due compagini maschili, la Stemar perde in casa del San Paolo a Roma 76-70 su a 2, mentre il Pirgi cede alla fine di pochi punti, ma poi di schianto nei primi due tempi contro il Tevere Roma e il Pirgi che già giovedì andrà in campo nuovamente in un anticipo contro i Belletri in casa. Nella femminile invece bellissima vittoria in trasferta del Santa Marinella a Frascati, che ha tolto di mezzo per il momento mettendo 4 punti di distanza dalla Frascati che occupa comunque la terza posizione, ha perso anche Atena, mentre Disco Rosso per la Giallo Blu in casa che è stata battuta 58-54 dall'Aprilia, rimanendo così nel gruppone della centro classifica. Per quanto riguarda altri risultati, la palla a mano che la Flavioni batte il cingolo e allunga che è successo vinto proprio con la squadra abruzzese e poi nelle palla a nuoto solo i giovanini in campo per l'SNC col campionato di A2 fermo, vincono l'Under 17 e l'Under 20, perde l'Under 15. E questo è tutto per quanto riguarda i risultati, hanno vinto anche gli Snippers, tutti questi risultati con i vari tabellini e commenti li trovate sul cartaceo e sul giornale online di 0766news.it. Buonanotte. Buonanotte.